Siamo qui a Forigno, da stamattina siamo a disposizione del Dipartimento con una prima colonna per un campo d'accoglienza per 250 persone. In questa fase il Dipartimento ci ha chiesto di spostare la cucina nella terza struttura su Norcia dove la andremo a montare e a breve partirà una parte di questo contingente che andrà a montare cucina, terza struttura su Norcia dove ci sono delle persone che vengano alloggiate in alcune palestre e la nostra terza struttura e la nostra cucina serviranno soprattutto per poter far mangiare queste persone. Nel contempo dobbiamo rimanere pronti con un altro contingente con l'ipotesi del montaggio di un secondo campo con l'annessa, cuscina, terza struttura e tende per l'accoglienza della popolazione. Quindi c'è un po' ancora di confusione, dobbiamo aspettare che si calmini un pochino le acque per prendere le decisioni più opportune su questa situazione.